José Antonio Linero Garrote ed Angel Luis Casado Caballero, detto Piccion, non poteva che ripartire da loro il Cristian Barletta. Sono stati due dei grandi protagonisti nell'ultima stagione della splendida cavalcata che ha permesso alla formazione allenata da Antonio Dazzaro sia di vincere per la prima volta nella storia del campionato di Serie B che raggiungere l'atto conclusivo della Final Age di Coppa Italia organizzata dal sudalezzo barlettano proprio al pala di sfida Mario Borgia che sarà dunque il palcoscenico di Garrote e Piccion anche nel prossimo campionato di Serie 2. I due calcettisti spagnoli infatti hanno accettato la proposta di prolungamento di contratto formulata dalla società e continueranno a lavorare con il tecnico Antonio Dazzaro. Il Cristian Barletta in pratica ha deciso di cominciare a completare il puzzle in vista della nuova stagione con due gradite conferme di grande spessore ed affidabilità. La prossima potrebbe riguardare il portiere venezuelano Gabriella Rocca, altro grande protagonista della recente promozione. Sembrano imminenti inoltre le prime operazioni in entrata già in settimana o al massimo entro dieci giorni. Il direttore sportivo Ruggero Passero e il direttore generale Ruggero Italia potrebbero ufficializzare l'arrivo di due giocatori stranieri in grado di elevare il tasso tecnico e qualitativo dell'organico. Il Cristian insomma ha intenzione di fare le cose sul serio anche nella seconda serie del Fuzzale Italiano.